Don Gino Frugone era del 1932, avrebbe compiuto 83 anni a luglio, un sacerdote dal carattere forte che sapeva avvicinare le persone con il suo spiccato lato umano. È stato ordinato prete il 21 maggio 1961 da Monsignor Francesco Marchesani. Dal 1961 al 1989 è stato vice parroco a Cavi di Lavagna. Il primo luglio del 1962 viene nominato parroco di San Pietro di Barassi sulle colline lavagnesi, comunità che ha guidato sino a ieri per 53 anni. Un sacerdote che ha segnato la storia della piccola frazione e che ha visto crescere anno dopo anno vicino i suoi abitanti in tutto, aperto, disponibile. Dal 1975 al 2006 poi è cappellano dell'ospedale di Lavagna. Anche qui viene ricordato come un prete prossimo ai sofferenti, capace di attirare tutti con il suo atteggiamento umano. Don Gino Frugone è stato anche membro della consulta diocesana per la pastorale della sanità e canonico ad onorem della collegiata di Santo Stefano di Lavagna. Oggi vi proponiamo una delle sue ultime interviste. Era il 9 novembre 2008 e i fedeli di Barassi avevano accolto il vescovo in visita pastorale. La mia origine in questo paese, mio padre era nato qui e poi si era trasferito a Santa Giulia e poi dopo si era sposato una donna di Santa Giulia. Frugone è un tipico cognome di qui, abbiamo capito, vero? Sì, uno dei tanti cognomi che sono qui. Il vescovo ha fatto anche complimenti per come tenete questa chiesa. La chiesa è la casa più bella del paese di essere e loro ci tengono, si sentono onorati perché più che una chiesa si è fatto caso dalle scalinate, il verde, i fiori e sembra più una villa che una chiesa. E poi ci tenete molto anche la vostra cappella di Sant'Eufemiano? E' che è là su, nel bosco. Ci si arriva solo a piedi lì? Purtroppo a piedi, 20 minuti di cammino pedonale.